Ben 76 piante di marijuana e trovati con oltre 700 grammi di hashish. Quanto hanno scoperto i militari di Abbiategrasso e Legnano, seguito di una precisa e tentatività investigativa sulle tracce di alcuni malviventi che in un'abitazione privata coltivavano la sostanza stupefacente. Accade a Furato una frazione di Inveruno e qui, con trentenne e residenti a Bareggio, già noto alle forze dell'ordine, ha preso in affitto l'appartamento. Ed è qui, hanno poi rivelato le indagini con conseguente arresto da parte dei carabinieri, che insieme ad altre due persone, un 27enne residente a Santo Stefano Ticino e un 23enne, anche lui residente a Santo Stefano Ticino, portavano avanti la loro attività illecita. All'interno dell'appartamento, infatti, avevano allestito una vera e propria serra professionale per la coltivazione della marijuana. I militari si sono ritrovati a sequestrare ben 76 piante e tutto il materiale della coltivazione. Nella perquisizione domiciliare e nell'abitazione degli altri due, invece, sono stati trovati e sequestrati anche 4 grammi di marijuana e 700 grammi di hashish, oltre a quasi 8.000 euro in contanti. Per i tre malviventi sono scattate le manette per essere portati al carcere di Milano San Vittore.